Ciao a tutti ragazzi, io sono Rokinara, non faccio vedere la casa o mani faccio a casa mia Come vedete oggi ragazzi siamo qua sul mio desktop, infatti vi insegnerò come cambiare lo sfondo Non ci ho provato prima, quindi adesso non mi ricordo, cioè l'avevo già cambiato tempo fa Però adesso non mi ricordo, quindi lo scopriremo insieme Mai visto nulla del genere di f*** Quindi bisogna andare, credo, nel pannello di controllo, anzi ma forse si può direttamente da qua con il destro E destro, destro, personalizza, perché il mio pc magari non è uguale, ecco tema, qua ci sono i temi E potete fare, insomma, sfondo del desktop, eccolo qua, io ho scelto tinta unita, comunque cliccate Qua potete scegliere lo sfondo, potete anche sfogliare le pagine per mettere una vostra immagine Per esempio se vado su M, no, se non vi spoilerò i video No, praticamente bisogna scegliere la carta tipo pacchetto, io la scelgo, ok Vi farò vedere tutte le cose che ci sono, ecco E mi cambia anche, perché le ho messo, che cambia immagino ogni tot secondi La data, qua potete scegliere, tipo facciamo affianca Come vedete cambia, più, è abbastanza trash, no E... riproduzione casuali, sospendo, vabbè in caso di alimentazione abbattito Sì sì, questo ci può stare, ma quasi quasi lo faccio Vabbè, e... adesso però questo sfondo mi fa un po' schifo, quindi rimettiamo tinte unite Rimettiamo il verde acido che un tipo mi ha detto che era bello, cioè ci stava, ci stava Quindi... oh, cosa succede? Dove sono le mie tinte unite? La che ho? Non sto... Annulliamo, ok, è tornato come prima, ecco Bastava annullare, ecco ragazzi Se no, altrimenti, se non potete fare personalizza, ecco Che, che buono, non so, siete disabili, non lo sapete Basta che andate qua, pennello di controllo, l'ho già aperto, quindi lo apro Qua, aspetto e personalizzazione, cioè cambia tema, comunque andiamo a aspetto e personalizzazione Schermo, e niente, non c'è qua Quindi tornate indietro, e niente, non potete cambiare lo sfondo, ecco Ah no, ecco, personalizzazione, penso che si è... ok, qua come prima Sfondo del desktop Potete anche cambiare, non so, quale sia colore, sinceramente Ah, quello dei bordi delle finestre, tipo questo qua, mi fa un po' schifo Non posso mettere verde, visto che io sono tutto... Oh, strabello, vedi, solo facendo questi video si vede Bello intenso, lo voglio, bello... no, no, mettiamolo a metà strada Così è tutto verde, perché io amo la natura E... e bene, ragazzi Per questo video è tutto Visto che è durato poco, devo mettervi qualcosa in mezzo che... Che vi faccia perdere tempo, quindi... Bella raga! Park, park, park Ma che è che è il monaco? Si, vole! Con questo superplex in autostrada 130 130 Martingarricks Martingarricks animals E come sempre, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video Io spero che questo video vi sia stato utile Se è così lasciate un like, un commento E ditemi altri tutorial inutili da fare Come sempre, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video Ciao, ragazzi! Ho già vinto a 30 euro Alle mattinette E guarda, 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 guarda Di... E guarda, guarda, guarda